Poi c'è quel manifestino lì che ho scritto all'ingresso, quello dice tutto, di Sassoferrato e dei martelli, se prende quello lì... Sì, ma se te me lo racconti è meglio, dunque 30 anni di collezione, è un po' dappertutto... Di collezione, sì, no, ma per dire che Sassoferrato era una città industriale e invece con l'artigianato aveva fatto le cose più belle, c'erano artigiani meravigliosi, artigiani che si costruivano l'attrezzatura e tutto. E dunque è un po' un nesso col Sassoferrato, un po' quello che significa Sassoferrato dell'artigianato? No, non c'è un nesso Sassoferrato con i martelli di petto. No, per niente. Non c'è un nesso. E dunque è una collezione che continui a... Certamente, continuerò. Va bene. Come si chiama il collezionista di Martello? Eh, non c'è un nesso. Allora... Collezionista di Martello. Eh vabbè, allora le ne condiamo uno. Grazie. Collezionista.